La sconfitta rimediata sul campo dello Spezia ha complicato un po' le cose, ma tutto resta nelle mani di un Crotone, che domenica prossima all'uscita contro Lascoli si gioca praticamente l'intera stagione. Un campionato iniziato con ben altri obiettivi, ma ora bisognerà arrivare alla salvezza. C'è da dire che il Crotone potrebbe salvarsi anche con una sconfitta, in presenza di non vittorie del Divorno e Salernitana, ma per non essere costretta a fare calcoli, bisognerà almeno pareggiare contro Lascoli. La società ha chiamato a raccolta i tifosi e per questa gara tutti i biglietti costeranno un euro, eccezione fatta che per la tribuna, per i quali saranno necessari 5 euro. Sì, sì, assolutamente. Ci giochiamo il campionato. Penso che la squadra sta lavorando alla grande da un paio di mesi, insieme ai tifosi, alla società, insieme al Mist. Speriamo di fare l'ultimo spinto finale e di portare a casa questi tre punti per i tifosi e per noi. Sì, sì, è importante il Mist ci ha tenuto tutti insieme, di farci allenare alla grande come facciamo sempre queste settimane, ma queste settimane non dovrebbe cambiare niente perché stiamo lavorando bene da tanto tempo. Aspettiamo solo che un stadio pieno ci dà una grossa mano perché la nostra tifoseria penso che è conosciuta in tutta Italia.